Il quadro del Plano Nazionale di Ensegnanza 2030 è arrivato il 26 ottobre con il risultato e il risultato di una scuola e ci sono diversi attività per fare offerte di Ensegnanza per la qualità di Ensegnanza e il futuro di Trabou per avere attività in l'IPA in l'Università di Aruba e in la Plaza Padù il 27 ottobre di 16 ottobre in attività in l'Onda Pueblo in generale per fare le best practices per fare un buon con i giovani che stanno facendo cose positive di Ensegnanza in l'escenario i giovani declamano poesia canta ha un class virtual anche un pubblico presente per l'experienza qui con l'etapa ha un les di un class virtual Ensegnanza di Nostur Nostur forma parte di Ensegnanza e avendia con il desarrollo di Nostra Siena Dona per la vita larga non solo per fare la scuola per formare parte del sistema di Ensegnanza Formale però després ora potrà traggare per adaptare i baii e cambia non c'è un bòmester porcini adescezano un skill con il proprio importante e il proprio via il nostro papi di Ensegnanza però qui con la qualità di Ensegnanza e qui con il costo non c'è un baii che ci potrà arriva a G e C seguir explorando direcci onderweiss Departamento di Ensegnanza arraggare i tarrere per desarrollare il plan nuovo però è planta un plan estratégico un bòtà describire i viscolti per Ensegnanza di Arroba per 2030 e lo che non sa ha asita non sa cominciare con expert analisi con un whole bosturio en la inspectoria usando un framework di Unesco onde potrà analisiare il sistema di Ensegnanza e potrà puntare com il qu'è cosa non c'è un bòm e qu'è cosa non c'è un bòmester con il tragi arriva a G i l e com potrà describir la vision e poi seguire con ronda di consulta con i diferents stakeholders in a area sociale economico turistico naturaleza per sobre un bòmester describir un bòmester che non si desenvolve internazionalmente e local e un bòmester vai andando per il sistema di Ensegnanza che forma parte di un sistema nazionale di un bòmester strategico come paese e sistema di Ensegnanza che forma parte di G i l e poi in aere la organizazione che rappresentano i nostri joveni e il futuro di mai e non che è un che deve experienciare il sistema di Ensegnanza ora che non l'anno di octobre non stiamo arrivando ma circa il car non stiamo arrivando il docente di una maggiore comunità ma il docente che lo hanno in questa via un cabezante di scuola dove hanno un logcode via la web di www.ea.w e per in questa ma anche contribuire nel plan nazionale di Ensegnanza e per comunità lo hanno in questa via di Ewebsa e durante la attività del 27 di octobre e per contribuire nel Pensa Kiko per Arruba per Ensegnanza 2030 e Sarkità e Arrubiano o website di Ensegnanza